Il professore Antonio Moschetta ha presentato ieri nel Teatro Traetta il suo ultimo libro, dal titolo Ci vuole fegato. Alla sua terza pubblicazione autonoma, dopo il mio metabolismo e l'intestino in testa, il professore si è occupato questa volta del fegato. Il fegato è il genitore del nostro corpo, perché lì in attesa di ricevere messaggi, lui sa come smistare questi pacchetti nutrizionali in giro per il corpo, decide a chi dare di più e a chi dare di meno e soprattutto come i bravi genitori lui è lì a stemperare i nostri errori, i nostri errori nutrizionali, a volte anche gli errori di farmaci, di alcol. Io ritengo che il fegato sia un organo veramente speciale, anche perché la scienza ci sta dicendo addirittura che lo stato di salute del fegato è in grado di predire quello che sarà il nostro futuro, un po' come gli aruspici, quando prendevano il fegato e cercavano addirittura di predire quelle che potevano essere le capacità divinatorie e il futuro di tutti noi. Un organo di cui già in tempi antichi c'era la consapevolezza dell'importanza, come analizza il ricercatore che, nell'opera, parla anche dei problemi più comuni che lo affliggono, dall'accumulo di grassi all'abuso di farmaci e di alcol e alla drancoressia. Io ho voluto sottolineare questo che spesso passa come qualcosa di collaterale, invece la drancoressia è un dramma, questi giovani ragazzi che, conoscendo il valore nutrizionale dell'alcol, per non prendere peso, bevono senza mangiare, così acquisiscono la tossicità e acquisiscono maggiormente quella libertà. Ecco, il passaggio che più mi piace di questo libro è oltre che spiegare il dato scientifico del danno e quello di riuscire a spiegare che si può tornare indietro, perché dal danno dell'alcol, dal danno del grasso, dall'epatite si può tornare indietro. Quindi non è solo prevenzione, è anche sottolineare che sapere di essere a rischio non è certo certezza di malattia, bensì speranza di guarigione. Spero che tanti giovani possano appassionarsi alla medicina, alla biologia per poter donare le loro menti alla crescita e per far questo devono essere sempre più affamati di cultura. Ci vuole davvero fegato in questo momento ad essere affamati di cultura.